Clara, ricevi questo anello come segno del mio amore e della mia fedeltà. La gente deve sapere cosa sta succedendo. Questo finisce su internet! Molto pottanata di te! Spegnila! È la nostra famiglia. Clara! Diego! Aiuto! Non lo scappiamo! Sto all'altro! Devo trovare Clara. Non vi siete accorti di nulla? È successo una cosa. Oggi è il mio giorno. Rack 3, la genesi. Sette, non sposatevi mai! Rack! Rack 3, la genesi. Grazie.